Ma sarà Renzi il problema? Boh Eh, può anche darsi Può anche darsi Sarà Renzi il problema? No, secondo me no Secondo me non è tanto Renzi il problema È tanto lei per questi ultimi atteggiamenti E poi questo non è un voto Neanche un sondaggio Sono proprio dichiarazioni ufficiali Il PD parla A bestia a voi In alto sia per i 100.000 iscritti E sotto attivate la campanella per ogni aggiornamento Mo' spaccato pure questo Lo ricordate? Ce l'ho come ricordo Questo è stato il mio primo cellulare Ora, detto ciò Mi raccomando attivate la campanella per ogni aggiornamento Di cuore grazie a ognuno di voi Perché Elicena ha bisogno di voi Credeva Credeva Se è domandato un po' nel PD E non solamente agli elettori Ma si è domandato proprio dentro il PD Eliccline Cosa ne pensi? Fiducia o non fiducia? Il 72,4% Pensa che Lashlein Non possa continuare con il PD E quindi ha la sfiducia totale Tutto ciò Non solamente Renzi Ma più che altro Il suo atteggiamento Che a volte è troppo festaiolo È troppo da ragazzina Addirittura da ragazzina È troppo assenteista Non dà fiducia Per un futuro sereno Del Partito Democratico E pensate che il 57% Dice che lei Non è L'oppositor Cioè Non è l'oppositrice Oppositore Chiamatela come vi pare Maschia femminile Di Giorgia Meloni Assolutamente no E allora chi? Nessuno Hanno detto queste persone Nessuno Ma calcolate però un'altra cosa Che a parte alcuni del PD Ricordate sempre Che l'ultimo europeo Hanno detto che Appena il 50% È andato a votare Nelle regionali Il 52 o 60% È andato a votare Rendetevi conto Che c'è Un'altissima percentuale Quasi il 50% Che è assenteista Peggio della Schlai Provate a chiedere a loro Per esempio Saranno le elezioni A breve Che ne so Ci potrebbero essere Andrei a votare? No io non vado a votare Perché? Perché non credo in nessuno Punto e basta Ditemi la vostra sotto Nei commenti Che cosa ne pensate Di queste dichiarazioni Del PD E non solo A presto Mi signore è che E non solo